è l'ultima dell'ultimissima partita delle regular season scala con oggi cala il sipario su tutte le leghe tutte cinque le leghe star league recupero settimana nuove la settimana di recuperi dell'inizio della champions dell'inizio dei preliminari anche dell'europa league si chiude questa domenica con un match che vale tantissimo nel ranking atletico madrid contro gli ammers gli ammers in questo momento in star league sono al quarto posto con 10 punti hanno 12 quelli dell'atletico al terzo posto in questo momento agganciati da liverpool con lo scontro diretto vinto tra l'altro a tavolino la settimana scorsa chi vince questa partita scavalca tante squadre nel ranking se vince l'atletico sale addirittura al quarto posto del ranking e potrebbe incontrare sulla strada degli ottavi di finali il crystal palace poi tra un'oretta vedremo ufficialmente il tabellone degli ottavi primo ottavo di finale si è giocato pochissimi minuti fa la clamorosa vittoria del deportivo la carogna sul santos la prima del ranking che cade contro l'ultima i campioni di platino che cadono contro i campioni della silver league poi ne prova l'imbucata e allora un po di cambi da una parte e dall'altra l'atletico oggi gioca con marco accennato tra i pali cocozza buongiorno a destra armando puerio centrocampo con lorenzo greco e mattia prisco avanti destro di prisco 1 a 0 avanti c'è luca di viva a disposizione ciro di viva 1 0 a 3 gli amers scala maraniello al centro al posto di ervolino santaniello a sinistra pulcrano a destra al posto di russo centrocampo cuccari e pulcrano avanti grauso greco di conquista il possesso palla questa volta o c'è buongiorno scarico de vivo scala santanello puerio di testa ancora greco risco non ci arriva poi si si vada cocozza buongiorno palla dentro di viva anticipato grauso smista non ci arriva pulcrano puerio pochissimi minuti per lui l'ultimo match proprio per l'infortunio se non erro di paolillo che ancora a bordo campo per un infortunio alla caviglia buongiorno di vivo dietro cocozza ma buongiorno col sinistro forte scala palla dietro velo de vivo liscio poi maraniello brauso controlla prova ripartire risco aggira un avversario prova col destra pulcrano palla al fratello palla grauso la muove per cuccari cocozza mette un piede pulcrano con le mani lunga per tutti puerio accennato assente simone puerio tra i pali dell'atlegico si va con le mani cuccari aggancio destro grauso lotta lì in mezzo contro armando puerio c'è un fallo pulcrano respinta ci prova con una banfella grauso si coordina santa pulcrano dentro per pulcrano il fratello hanno giocato come giocavano la star l'anno scorso la pivano litigavano e piegherano tutte le partite buongiorno col sinistro è uno schema per ciro de vivo che allarga d'armando puerio lungo linea male sale pulcrano va in verticale cuccari per armando puerio che non è un suo compagno cocozza ancora di vivo lo scambio per l'atletico che controlla il ritmo prisco viene fuori prisco destro rete ancora due a zero atletico madrid ancora prisco l'anno scorso hanno fatto assa cosa loro però l'hanno giocata buongiorno palla lunga santanello chiude la diagonale alza la testa prova scarico pulcrano piscete vivo si va con le mani occhio al secondo ballo c'è santanello accennato prisco cocozza vada buongiorno occhio a prisco col destro maranillo grauso recupera l'atletico possesso con cocozza graffitta di puerio che però sbaglia il tocco prisco ruba palla verso de vivo scala manona di vivo contro i passi alta non ci vai c'è una palla tagliata la gira l'atletico ancora con cocozza verticalizza improvvisamente scala parte brisco il lancio lunghissimo scala è la parata di accennato su grauso io ho fatto una battuta cattiva però ho visto che non si prendeva la collera allora ho detto hanno 18 anni e 17 ma uno anche i 16 l'uncini simone formi sacro ho detto vaiù c'è la prossima volete giocare cucca risfonda grauso trova il destro accennato miracolo santa santa anello 2 a 1 bola scala santa e l'amore da campi quello quella quella bestia corta che era fortissima ma un comitato comitato era fortissima vabbè marco me ne va abbiamo spingolato meglio di tavassi meglio di tavassi meglio di tavassi ha zaccato mamma ha fatto due parate tunnel a di good morning che vada il destro di greco angolo che era battuto la greco palla dentro secondo palo salta benissimo pulcrano l'attacca cuccari parte cuccari salta il suo avversario c'è fallo grauso accennato occhio a questo pallone grauso si coordina hanno preso 11 gol dal cezio ha detto che giochiamo a fare un terzano prezzo greco di là de vivo prisco va da greco occhio al destro prova a piazzar la scala buongiorno tocca il pallone in mezzo 2 a 1 atletico vediamo gli hammers con santaniello siamo tra l'altro arrivati praticamente alla fine del primo tempo ora pulcrano se ne va con un rimpallo grauso destro deviato calcio d'angolo c'è anche un cambio pulcrano dentro sul primo salta cuorio maraniello prisco si coordina cucuzza vada un giorno con le mani palla dentro prisco si inserisce c'è uno scarico largo pulcrano va a lottare ciro de vivo per buongiorno mette il piede ancora lorenzo pulcrano la rimessa è per buongiorno prisco si gira palla centrale finisce il primo tempo 2 a 1 atletico matrimonio armando arma de vivo calcio e comincia la ripresa siamo 2 a 1 per l'atletico madrid due doppietta di mattia fresco buongiorno fotocopia hai fatto la storia su su puerio oh tu hai detto pulcrano santaniello sale pulcrano prova mi avete fatto perdere un gol di maraniello incredibile bordata rete 2 a 2 mare aniello super gol direi ma elzo crispi il buon proprietario del campo ha deciso di distrarci così prova aprisco scala male ma efficace colpo di testa di de vivo che attacca da dietro e fa 3 a 2 di testa riscola muove scala respinge puerio alza pulcrano per grauso morbida pareggio ancora degli hammers 3 a 3 brisco prova destro deviato scala c'è lancia di pulcrano ancora dentro lo scarico di vivo di vivo puerio che sale scala per pulcrano occhio a questa triangolazione lunga di buccari giro di vivo palla lunga salta maraniello poi santaniello brauso maraniello santaniello scala sul pallone va bene va bene butto avanti si è fatto male santa provate provate vivo sul muro puerio palla di là buongiorno cerca il gran sinistro sale buongiorno cerca il sinistro e mezzo maraniello va a respingere prisco col sinistro scala male comunque pulcrano la rinvia buongiorno prisco la move non passa poi cucari spinge taglio di grauso lungo il pallone scendete vivo palla centrale luca di vivo forse con un braccio passa maraniello cucari vada pulcrano sale pulcrano la finta non riesce a scaricare palla dentro grauso bravissimo vabbè però là è eclatante puerio pocozza buongiorno cucari non passa puerio si ben verticale prisco chiude pulcrano pocozza sale sterza prisco viene fuori cerca il sinistro deviato angolo siamo sempre 3 a 3 quanto mi fanno male buongiorno ah no i gommini piccoli si grauso ruba parte grauso dentro per cucari salva armando puerio brivido brivido qua per l'atletico greco passa ancora finta scala che intervento mamma mia vada grauso alla difficile però no 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 gliel'ha detto gliel'ha detto gliel'ha detto eh diglielo però eh ha fischiato subito prisco prende la mira calcia pulcrano buongiorno buongiorno col sinistro altra chance stavolta morbida scala altissimo pulcrano ma è verticale grauso la trova saltato per un attimo accennato cocozza mette il piede rimessa a mers che stanno rispondendo colpo su colpo in questo secondo tempo santanillo salta grauso accennato la tiene buongiorno prisco un crano su di lui non lo molla greco c'ha spazio maranillo perché ti chiami anche le pietre né né ok a De Vivo ha passato il secondo pallo palla dentro prisco alta ci lotta lì in mezzo greco contro grauso cucca rimette il piede puerio lorenzo greco cade scala prisco prova a passare mezzo a due cucca rispara poi armando perio prende la mira prova a saltare grauso ci riesce con un po' di fortuna palla verso De Vivo sterza su santanillo ancora De Vivo contro due passa lo stesso poi però il tocco è troppo timido allora grauso di prima non trova cucca cocozza squadre lunghe greco la finta sinistro alta c'è palla lunga di scala e poi prisco due su di lui cerca il destro deviato scala la tiene in due tempi forse tre mancio lungo salta puerio si va con le mani pulcano passa buongiorno De Vivo vada Ciro De Vivo che punta l'uomo vada buongiorno una palla troppo lunga messa in difficoltà anche un treno come buongiorno cucca sale cucca riprova cocozza puerio occhio a cucca ricche aprate ricevuto l'avversario cocozza in gran stile buongiorno prisco prende la mira prova col destro fuori maranillo anzi grauso sterza destro puerio prova ad andare chiude grauso quale no frano brisco scala ce l'ha grauso riceve grauso finta ancora grauso l'ha deviata no non l'ha deviata c'è nato di vivo punta pulcrano prova il corridoio un intervento di santa che sfiora un autogollo ma fa un intervento straordinario buongiorno calcio d'angolo parte il cross secondo palo de vivo anticipato puerio tocca ciro de vivo prende la mira mamma mia occhio a ciro de vivo bucari su di lui de vivo lo salta sale de vivo punta la porta vada luca de vivo pallone respinto ancora de vivo in aria calcio di punizione de vivo rasoterra parte lorenzo pulcrano sale ancora lui il taglio di cucari puerio de vivo sciabolata luca de vivo controlla se ne va intervento di maraniello di maraniello parte una bomba e mezzo di buongiorno fondo anzi rimessa pulcrano calcio murato come otto buongiorno scala graus graus gran recupero tocco largo lorenzo pulcrano lorenzo pulcrano ancora bobby grauso gliela ridà sta arrivando santa prova gran tiro palla dentro grauso in qualche modo non la trova puerio buongiorno di prima sempre tre a tre risultato cucari la muove non si vede nulla ora si palla dentro lorenzo pulcrano gran numero palo palo è credibile poi c'è un lancio de vivo abbattuto si continua Prisco alta de vivo l'alza calcio deviazione angolo Prisco alza de vivo su Cococcia si contrastano ancora e poi Cococcia la palla non esce ora si rimessa buongiorno Prisco che viene prendere il pallone nella sua metà campo la finta su Grauso Cucari mette il piede poi Grauso spalla e spalla con buongiorno rimessa a santa cerca Cucari Prisco difensore centrale sta correndo tantissimo Prisco ok Cucari lo tenendo dall'armadietta pulcrano c'è contatto si continua pulcrano carica pulcrano gol destro angolo Cucari chiama lo schema per Grauso patel cross lungo Puerio cerca non trova Prisco Cococcia salta riesce a servire good morning poi Maranello al volo l'ha presa ma sai prendere quello al volo Marco le benji proprio scala il lancio Grauso di testa buongiorno palla dentro morbida santanello la lascia scorrere scala avalancia occhio a Cucari ora si gioca al ping pong ora c'è una pallara su terra però per Puerio e scende Puerio santanello chiude anche Grauso ancora Puerio Prisco ignorato attenzione ora lo serve Prisco si gira a sinistro ancora Maranello in angolo la muove Prisco col destro alto accennato pago le mani Prisco controlla vada buongiorno sinistro missile devivo la leva alla porta forse e poi si riparte Pulcrano serve il fratello prova mezzo tonnello su buongiorno si ripoggia verso Grauso Grauso grai numeri Grauso super Bobby Grauso Pulcrano nella corsa Grauso capisce tutto buongiorno finisce 3 a 3 Amers Atletico Madrid le regular season terminano così con Bobby Grauso a petto nudo che schifo a petto nudo